Se riscontri un problema riguardo all'eco che esce dalle cuffe, vuol dire che tu stai parlando con il tuo microfono e ascolti anche la tua voce. Quindi vai su impostazioni audio, tasto destro sull'icona là sotto, vai direttamente su registrazioni là sotto, registratori, ascolto e vai sul tuo microfono. Questo è il microfono che sto utilizzando, quindi in questo caso dove c'è scritto ascolta il dispositivo, rimuovi la spunta ascolta il dispositivo. Perché se io metto la spunta da sopra e scelgo il dispositivo audio tipo le mie cuffie, se io adesso parlo nel microfono sento la mia voce, il mio eco. Quindi togli la spunta e ascolta il dispositivo sul microfono. Se non dovesse funzionare, puoi semplicemente fare al contrario. Quindi invece di andare su registrazioni, vai su riproduzione e rimuovi lo stesso, ascolta il dispositivo. Eccolo qua, fai applica e fai ok. E hai risolto il tuo problema riguardo all'eco che esce dalle cuffie.